Sì, effettivamente dovevamo partire bene fin dalla prima giornata di campionato del ritorno, l'abbiamo fatto e siamo contenti perché era l'unica squadra che ci ha messo in difficoltà nel girone d'andata e ci ha vinto, ci ha preso tre punti. Siamo contenti, bel gruppo, stiamo andando avanti così, è iniziato bene questo girone di ritorno. Ecco, inizia bene, quindi come hai detto arriva questa vittoria, a questo punto il Real Podore deve confermare il suo trend positivo? Noi dobbiamo soltanto guardare al campionato settimana di settimana, non facendo programmi a lungo termine perché i programmi a lungo termine sono le cose più sbagliate che si possono fare. Dobbiamo soltanto credere nel gruppo e migliorare giorno dopo giorno.